Come hai trovato la stilata? Molto bella, molto bella Penso che sono campi che ti metteresti? Si, la maggior parte Ma qual è il tuo rapporto con la moda? Niente, mi piace Vai a far shopping per te o accompagni più spesso? No, anche per me mi piace abbinare, pensare a cosa potrebbe andare bene con quella cosa che ho a casa Mi piace organizzarmi Ok, grazie mille Ciao, ciao